Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di tutto parto ringraziandovi perché i numeri che sono stati fatti in questo ultimo mese sono clamorosi e quindi grazie. È ovvio che quando le cose non vanno bene per la Juventus solitamente c'è più discussione perché quando le cose vanno bene io di solito riesco a godermi le vittorie e quindi cerco di essere un po' meno critico. Semplicemente, anche se molte volte ci sarebbe comunque da criticare anche determinate vittorie, però a me piace sempre godermele le vittorie. Questo momento in cui non si vince, questo momento di inizio campionato un po' così, di inizio stagione un po' così, invece purtroppo si è parlato tanto. Mi piacerebbe parlare anche un po' meno a volte e semplicemente portarvi dei contenuti un po' più leggeri però. In questo momento di forte riflessione non solo sul mio canale ma penso anche in casa Juventus. Beh, avete risposto presente. Quindi grazie mille, grazie per tutti i like, per i commenti, per le iscrizioni, le condivisioni. Grazie per tutto. E grazie se scaricherete anche il numero 10 perché il post partita di domenica non lo trovate sul mio canale YouTube, bensì sarà caricato sul numero 10, io qui sul canale caricherò un secondo contenuto differente, completamente differente, quindi vi invito a scaricare l'applicazione gratuita dove c'è anche un mio articolo su Massimiliano Allegri scritto qualche settimana fa che mi sembra essere abbastanza attuale, anche oggi. Anzi, forse oggi è ancora più attuale di sempre perché l'articolo si intitolava Allegri salvi allegri. E proprio da qui voglio ripartire, togliamo il banner, perché per un motivo ieri sera Corriere dello Sport ha iniziato a far girare la notizia che Allegri sarebbe stato confermato sulla pancchina di Juventus e che Agnelli in questo momento non ritenga necessario l'esonore dell'Allegri, anzi ritenga l'allenatore intoccabile. Fabiana della Valle su Twitter in risposta a Ruditar che ricorderete perché ha editato qualche video della carriera allenatore che vi ho portato qua, quelle stagioni di carriere che facevamo per ridere quest'estate. Quindi lo saluto, ciao Rudy. Fab, quante possibilità ci sono di un esonero più o meno zero? Ok, vi faccio vedere anche un'altra immagine che è presa da gol.com e sono delle dichiarazioni sempre a Gazzetta dello Sport di Giovanni Galeone, ex maestro di Massimiliano Allegri e Gianpaolo e dice che la Juve al completo con Di Maria, Chiesa, Pogba e gli altri è una squadra mediocre. Anche Paredes non è di certo Pirlo. Allegri dovrebbe fare un miracolo per qualificarsi in certo tra le prime quattro. Cerchiamo di commentare un po' tutte queste cose partendo dalle parole di Galeone, con le quali non concordo banalmente. Ieri ho fatto un video insieme a Claudio Zuliani che ricorderete per aver lavorato anni e anni dentro Juventus TV ha aperto il suo canale YouTube, sul suo canale trovate la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Ieri ho fatto diversi video sul mio canale e anche come ospite perché ho fatto anche un bellissimo video con Davom vi invito ad andare a vedere anche e soprattutto quello lì, proprio perché si incastrerà con questo discorso che faremo oggi e infine ho fatto anche un'ospitata a Juventus, quindi sui tre canali YouTube citati trovate anche delle mie apparizioni. Ieri con Zuliani anche lì mi sono trovato in disaccordo perché a un certo punto mi dice ma tu sei davvero convinto che la rosa attuale di questa squadra sia forte e addirittura più forte delle Juventus che arrivavano ai settimi posti? Io lo dico tranquillamente ma lo sapete, cioè conoscete la mia persona, il mio pensiero ognuno ha diritto a un'opinione, purché rispettosa, è sacrosanto. Però questa cosa mi ha spiazzato perché non avrei mai pensato potesse esserci un tifoso o una parte di tifoseria, non lo so che metteva così tanto in discussione questa rosa. E Galeone che parla a Gazzetta e c'è una roba del genere, intanto è una cosa forte perché poi non puoi non pensare che Galeone che viene sempre fuori in momenti di difficoltà di Allegri non sia quello che Allegri non vuole passare ai microfoni dato che c'è questa forte amicizia che gli lega questo grande rapporto personale. Mi viene da pensare che i due stiano parlando di tanto in tanto e che venga data voce a Galeone per far parlare Allegri. Poi non magari in questo caso perché, ripeto, sono delle affermazioni forti e che non condivido minimamente come non condivido il fatto che questa Juventus sia più scarsa delle rose dei settimi posti che si ritrovava dei campionissimi scesi in B, nemmeno tutti ormai praticamente a fine carriera con dei grossi infortuni alle spalle è vero, potremmo fare lo stesso discorso con Di Maria e Pogba però io guardo nella totalità di questa rosa ed è una rosa che, secondo me, per la Serie A attuale perché bisogna anche considerare il livello della Serie A attuale è tanta roba. Galeone si focalizza sulla Champions bene, sulla Champions ragazzi in questo momento serve un miracolo perché io ci stavo pensando anche stamattina sono andato a fare delle analisi, degli esami e mentre aspettavo e mentre tornavo a casa ragionavo un po' sul nostro girone prendo in considerazione il nostro girone dato che ci sono due squadre a 6 punti, due squadre a 0 punti noi le prossime due le giochiamo contro il Maccabi Haifa casa trasferta e le servono 6 non ci si può girare intorno, ne servono 6 6 punti se non fai questi 6 punti è finito è inutile parlarne ancora perché in un girone da 6 partite di cui due le hai già giocate e le hai già perse se non fai anche i due punti contro la squadra materasso, quindi quella più abbordabile del girone la quarta fascia ti meriti di andare a casa? probabilmente te lo meriti già adesso però cosa succede? che poi il Benfica e il PSG si affrontano e lì dipenderà dall'incastro perché, mettiamo il caso, vince due volte il PSG vince due volte il Benfica vanno a 9 punti una delle due l'altra rimane a 6 poi tu hai lo scontro diretto puoi superarla e poi l'altra partita la devi pareggiare quindi quando Allegri parlava di 10 punti per passare il girone potrebbe avere ragione dipende da che cosa succede dipende dagli scontri diretti tra PSG e Benfica e tra Juventus PSG e Benfica quindi io non dico che la Champions è andata perché mi sembrerebbe stupido dire che in questo momento matematicamente siamo fuori dalla Champions non è assolutamente vero tu puoi fare ancora 12 punti e questi 12 punti potrebbero assolutamente essere sufficienti però per fare 12 punti intanto devi battere due volte il Maccabi e già io in questo momento non so se la Juventus sarà in grado di farla soprattutto devi battere dopo Benfica e PSG tra l'altro Benfica e Lisbona due squadre che nella totalità del match mi sono sembrate comunque superiori a te quindi sì magari la Juventus ha beccato un sorteggio sfortunato in Champions League però io sono anche dell'idea che si potesse fare decisamente meglio rispetto a quello che è stato fatto perché io ribadisco dire che la squadra mediocre anche con gli infortunati secondo me è un'esagerazione incredibile volta a nascondere in questo momento le problematiche evidenti e le difficoltà dell'allenatore poi qualcuno mi sta continuando a dire che la linea editoriale del mio canale è cambiata questa cosa mi fa sempre ridere allora facciamo così la linea editoriale del mio canale la decide il campo la decide i risultati la decide il lavoro che riesco a vedere tramite le partite quindi se davvero Allegri rimarrà l'allenatore della Juventus e adesso ci entriamo io sarò il suo supporter numero uno perché se Allegri andrà bene con la Juventus la Juventus andrà bene cioè questa cosa questo è un messaggio che devi passare chiaro, forte, chiaro perché io in questo momento cambierai l'allenatore ho già spiegato il perché ho già spiegato le motivazioni ho già spiegato che non ho fiducia ho già spiegato che non vedo niente anzi ieri ho visto un retweet di Luca Monblano gli chiedevano Luca cosa salvi di questi 15 mesi di Allegri e lui dice niente io ho provato a rifarvi la stessa domanda la risposta non cambiava quindi la rivolgo anche a voi di questi 15 mesi di Allegri che cosa cambiate? e la risposta niente è pesante è una risposta secca netta chiara ma secondo me anche onesta e veritiera perché non ho motivazioni per mettermi qui a salvarlo anche quando l'anno scorso mi sono ritrovato a fare il video post eliminazione finale Coppa Italia con l'Inter io ragazzi ve l'ho detto chiaro e tondo un allenatore normale in una situazione normale verrebbe esonerato per andare avanti con Allegri c'è solo un discorso di continuità che è mancato negli altri anni e io l'ho detto senza giri di parole quello che faccio io in questo momento è un atto di fede e mettermi assolutamente nelle mani della dirigenza che in quel momento aveva confermato Massimiliano Allegri e farmi trascinare dalla competenza che sicuramente contraddistingue la dirigenza dell'Iuventus rispetto alla mia di un semplice tifoso perché ripeto io che sono un tifoso voi che siete tifosi noi vediamo l'1% di quello che accade dentro l'Iuventus dal campo alle stanze segrete alle riunioni non abbiamo il quadro chiaro delineato preciso completo quindi dico io faccio un atto di fede che non è cioè un atto di fede è una cosa grave da fare nei confronti di un allenatore di un progetto tecnico di una squadra un atto di fede del tipo fateli un mercato come Dio comanda fatto secondo le sue misure secondo le sue richieste e poi lì dopo dovrà venire fuori perché già si è giocato un jolly e questo jolly se l'è guadagnato tra virgolette negli anni precedenti che è un allenatore normale e in realtà nel calcio la riconoscenza non esiste non dovrebbe esistere ed è stata data da Allegri una seconda possibilità però poi allora bisogna galoppare atto di fede e questo atto di fede in questo momento ragazzi mi dispiace non è corrisposta in questo momento anzi siamo in una situazione terrificante in cui già siamo a rischio di eliminazione dalla Champions ai gironi e questo dovrebbe essere da esonero assolutamente cioè è inutile girarci intorno a questo concetto noi eravamo abituati a oh no non passiamo aiutabili non passiamo ai gironi cioè non so se sto rendendo l'idea quindi l'esonero per forza di cose se non si passa il giro nei Champions per me è scontato è necessario è dovuto non arriverà magari adesso arriverà più avanti magari passeremo il turno io questo adesso non lo so e adesso entriamo all'interno della discussione vera e propria perché io lo dico tranquillamente io credo che la Juventus ad oggi possa vincere lo Scudetto e voi direte è stato fino adesso a dire il contrario no ma vi spiego anche il perché perché io prendo la classifica della Juventus è a quattro punti dalla prima domenica caccia al Monza Milan e il Napoli si affrontano tra loro in un scontro diretto ragazzi sulla carta è un turno assolutamente positivo e favorevole alla Juventus il problema è che è sulla carta stiamo parlando di una classifica e non stiamo parlando del campo non stiamo parlando di calcio non stiamo parlando delle potenzialità delle possibilità di questa squadra perché io torno a dire siccome questa è una squadra con grande potenzialità con e senza Pogba di Maria e Chiesa e l'abbiamo visto banalmente nei primi 20 minuti col Benfica l'abbiamo visto banalmente nella partita con la Roma fino a quando non abbiamo esaurito l'energia l'abbiamo visto banalmente nei 15 minuti iniziali con la Fiorentina l'abbiamo visto banalmente nella ripresa col PSG l'abbiamo visto banalmente nella ripresa con la Salernitana però è una squadra episodica è una squadra nervosa non è una squadra con dei concetti chiari definiti lineari è una squadra che va di reazione nervosa forse anche per questo che ci sono questi sbalzi d'umore l'unica risposta che mi posso dare in questo momento è questa essendo una squadra nervosa non una squadra capace di fare questa cosa beh i nervi saltano in determinate situazioni i nervi saltano quando ti senti stimolato quando ti senti preso in giro quando ti senti sminuito anche dagli avversari e quindi ecco che la reazione nervosa viene fuori questa è l'unica spiegazione che mi posso dare al momento sul momento della Juventus e del perché ogni tanto gioca e del perché ogni tanto non gioca Allegri rimane bene dovesse rimanere Allegri intanto io questo rimane Allegri in due modi diversi due il primo è che ad oggi l'esonero non se ne parla e ragazzi è giusto così oggi e ve l'ho già detto e ve l'ho già detto che prima del Monza che è domenica alle 15 non aspettatevi dei cambiamenti quindi oggi l'esonero non ha senso perché domenica si gioca col Monza che non significa che la partita col Monza andrà a decidere il futuro di Massimiliano Allegri anche perché uno non è in panchina e due non può essere la partita col Monza a far cambiare idea alla dirigenza della Juventus sul dentro fuori Massimiliano Allegri non stiamo parlando di uno scontro riletto salvezza stiamo parlando di una cosa logica e naturale che la Juventus vada in casa di una squadra neopromossa in Serie A che non è mai stata in Serie A non è esperienza in Serie A ha fatto una squadra cambiando metà squadra ha appena esonerato l'anatore ha fatto un punto nelle prime sei giornate di campionato non ha mai vinto la Juve deve andare lì vincere la partita dominare la partita fare dei gol questa è la logica che ti pone sempre la carta però come dicevo prima la carta un conto il campo un altro perché se oggi ci sono questi quattro punti di distanza tra Juve la vettura e la classifica potevano essere di meno con l'episodio della salerentana certo potevano essere anche di più per quello che c'è stato in campo perché noi oggi in campo siamo una delle squadre peggiori della Serie A quasi tutte le statistiche che vanno a delineare un dominio territoriale che vanno a delineare i tiri in porta qualcuno non ci crede nei numeri non c'è nessun problema però ragazzi le partite vengono analizzate con i numeri al giorno d'oggi è inutile girarci intorno a questa cosa poi uno può avere la sua opinione però questo è un dato di fatto cioè chi analizza per investire le partite queste cose le prende in considerazione possono non interessare non sono assolutamente la risposta a tutto perché con i numeri non puoi prevedere il risultato di una gara però la puoi analizzare a posteriori per migliorare poi le gare successive questo è l'utilizzo dei numeri dell'analisi delle partite quindi ad oggi secondo me non ha assolutamente senso parlare del resonero perché deve essere già stata presa una decisione se andare avanti oppure no e questa decisione deve essere presa dopo Monza a priori a prescindere dal risultato per le ragioni che abbiamo espresso quindi io ancora mi tengo aperta alla possibilità che Massimiliano Allegri domenica sera possa non essere allenatore della Juventus se invece Agnelli ha deciso di andare avanti con Allegri dovessimo perdere 10-0 col Monza Allegri rimarrà fisso sulla panchina della Juventus cioè questo è il messaggio che deve passare non è che se vinciamo 5-0 allora è meglio ti fare Monza perché se no Allegri lo lascia lì io che leggo sto continuando a leggere che tanti tifosi ti faranno Monza ma dai ragazzi ma cosa state dicendo scusatemi torniamo sul pianeta Terra di cosa stiamo parlando cioè la decisione non dipende dal Monza la decisione non dipende dal Monza tifate per la Juventus sempre e comunque mi sembra la cosa più naturale del mondo dirla ma se tifate Juventus dovete tifare Juventus cioè proprio per concetto non esiste tifare la Juventus non esiste tifare contro per far accadere un evento no quell'evento è svincolato da Monza Juventus quindi vinci 5-0 perdi 10-0 se la dirigenza ha deciso una cosa quella rimane perché se no davvero come dicevo ieri basta lanciare una monetina se no se dobbiamo prendere decisioni in questo modo se dovesse rimanere Allegri perché a quanto pare questa è perché Agnelli avrebbe completa fiducia in Massimiliano Allegri e quindi l'allenatore non si tocca non per ragioni di campo no e mi dispiace dirlo perché ricorderete bene che io negli anni ho sempre speso parole al miele per Andrea Agnelli e addirittura nel video della presentazione di Pirlo vi dico io la considero una follia perché non è mai stato allenatore però se la decide Agnelli questa cosa che è un uomo che ci ha sempre visto probabilmente più in là rispetto a quegli altri tante volte criticato per scelte folli la scelta di Pirlo mi va esattamente in questa direzione una scelta che oggi mi sembra folle ma che se ha preso una persona intelligente come lui probabilmente aveva un senso logico e aggiungi questa cosa aggiungi il fatto che secondo me negli ultimi anni si è preso troppe responsabilità anche che non gli competevano sotto il profilo del campo dell'analisi tecnica quindi perché io ricordo la conferenza stampa di Addio di Allegri con Agnelli che dice io non decido io delego e poi a seconda di quelli che sono i risultati eseguo cioè confermo oppure no le persone che hanno preso queste decisioni Paratici è saltato sarebbe saltato dopo Sarri che è stata una scelta di Paratici non è saltato subito dopo Sarri per via del covid ed è per via di un mercato racchiuso in un mese chi ha portato avanti questo rapporto l'ha logorato ulteriormente definitivamente con la vicenda Suarez e poi è stato allontanato con Pirlo ma Pirlo non è stata una scelta riparatici non è stata una scelta ai delegati è stata una scelta del presidente è stata una scelta del presidente sbagliata è stata una scelta del presidente mandarlo via è stata una scelta del presidente prendere Massimiliano Allegri riprendere Massimiliano Allegri fargli il contratto che gli è stato fatto e probabilmente è stata una scelta del presidente confermarlo l'anno scorso e dargli fiducia in questo momento ma perché direte voi cioè ci sarà un motivo dietro tutta questa linea bizzarra particolare perché solitamente non è cioè è vero c'è il presidente ma non è che sei il capo supremo cioè non è che tutte le decisioni da passare da te c'è chi è competente sull'area sportiva che prende le decisioni per quello che riguarda l'area sportiva poi ci sono i dirigenti che ognuno di loro avrà un'opinione probabilmente diversa in questo momento sono Massimiliano Allegri e per me arriva bene Nedved in questo momento spingono per far andare via Allegri contro Agnelli che spinge per la permanenza e ribadisco magari cambia qualcosa domenica sera magari no però perché ad oggi il presidente ritiene intoccabile l'allenatore è la risposta che mi riesco a dare sempre solo una ma non da oggi da mesi chi segue il mio canale youtube lo sa lo sa ne ho parlato tantissime volte vedete questa maglia è rossa è un filo rosso è un filo rosso che unisce questo qua guardate questo qua questo filo che unisce le figure di Massimiliano Allegri è Andrea Agnelli perché Andrea Agnelli ha già sbagliato troppo negli ultimi anni ha preso delle decisioni forti impopolari che io stesso in primis ammetto le mie colpe avevo letto magari come idee geniali ai quali io non ci arrivavo probabilmente perché avevo sopravvalutato la capacità di analisi di Andrea Agnelli qua si potrebbe aprire un discorso pressoché infinito che passa dalla gestione della Superlega non dall'idea della Superlega ma dalla gestione della Superlega che è stata imbarazzante lo sappiamo si passa al discorso stadio perché ragazzi parliamoci chiaro che la Juventus abbia l'impianto più bello d'Italia più nuovo d'Italia uno anche dei più piccoli delle big che ci siano 41.000 posti di cui sempre 5, 6, 7, 8 10.000 posti liberi è una vergogna il fatto che non esista più una curva calda a sostegno dell'allenatore e della squadra è una vergogna è una vergogna perché non puoi mettere la famiglia in curva non puoi mettere i signori in curva questi vanno in tribuna se vogliono però perché vanno in curva perché le tribune sono così costose che pochi possono permettersi un abbonamento in tribuna o una partita in tribuna perché ho fatto due anni di abbonamento in tribuna secondo terzo di Conte e i prezzi erano alti ma decisamente più bassi di quelli di oggi la campagna abbonamenti è stata un fallimento ad oggi lo stadio è sempre vuoto perché anche la vendita libera che una volta era la follia trovare un biglietto in vendita libera per lo Juventus Stadium oggi ragazzi potresti trovare il biglietto fino a tre minuti prima della partita potresti trovarlo fino all'ultimo secondo perché anche durante la partita lo stadio non è pieno quindi la gestione dello stadio la gestione della tifoseria passa per forza di cose dalla figura di Andrea Agnelli quindi come possiamo vedere ci sono diverse cose che non stanno funzionando nella gestione di Andrea Agnelli ad oggi che io vi ho sempre detto potrebbe finire da un momento all'altro però sarà lui a dover dire oh ragazzi io non ho più niente da dare a questa squadra perché non credo proprio che all'interno della famiglia Elkan quindi Agnelli si vogliono creare queste frizioni a meno che non venga semplicemente spostato su un altro asset della società che può essere davvero la Ferrari i motori quello che volete comunque sempre cose controllate da Elkan ad Exor ma non credo mai che arriverà a Elkan a dirgli sei licenziato da presidente della Juventus non credo che possa accadere questa cosa proprio no però Agnelli stesso potrebbe farsi avanti e dire oh ragazzi mio lavoro qui è finito meglio di così non posso dare riconosco i miei errori degli ultimi anni e mi faccio indietro e secondo me la figura di Massimiliano Allegri è strettamente legata a quella di Andrea Agnelli che in questo momento e adesso vi do la mia lettura totale della situazione pensa ok la Champions probabilmente usciamo ed è un fallimento anche economico per la Juventus perché è un danno grandissimo per market pool per immagine per introiti l'uscita ai gironi della Champions League è un danno gravissimo basti pensare che chi passa gli ottavi di Champions probabilmente guadagna più di chi vince la finale di Europa League poi il prestigio è un'altra roba è proprio lo stesso cioè alla fine quello che conta è il denaro in ogni ambito della vita quindi secondo me questa cosa manda nei matti Andrea Agnelli che però dall'altra parte pensa con che faccia poi esonero anche Massimiliano Allegri gli pago altri due anni e tre quarti di ingaggio per star fermo perché erano quattro anni di contratto totali contratto oneroso che sono praticamente una quarantina di milioni di euro ancora che girano tra Netto e Lordo che per me in questo momento andrebbero comunque pagati perché il cambiatore mi sembra doveroso mi sembra doveroso però poi devi darli a un altro e allora qua arriva la battuta di Arriba Bene che ho anche un po' rivalutato perché la prima volta che l'ho sentito ho detto vabbè dai una minchiata una battuta oggi non ce la faccio più a vederla così e sono passati due giorni però ascoltandola riascoltandola ascoltandola riascoltandola e vedendo anche e ragionando su questa questione vedendo quello che sta accadendo mi sembra sempre meno battuta e sempre più verità le cose cambiano ragazzi è giusto che le cose varino che le sensazioni anche cambino quindi ad oggi mi sembra davvero un'uscita se vogliamo anche infelice da parte di un dirigente da Juventus che però nasconde una grande verità all'interno di una battuta di una semplice battuta e quindi Allegri Agnelli stia pensando rimango sulla traiettoria di Allegri perché è comunque vero che la Champions probabilmente ce la giochiamo in questo momento ma non era nemmeno il nostro obiettivo come era una volta e in campionato non siamo ancora messi così male perché abbiamo quattro punti dalla vetta e quindi con il Monza vincendo andresti a meno uno guardando poi cosa fanno tutti quegli altri davanti da te e quindi dentro il campionato e dentro la corsa a scudetto ancora ci puoi finire e ripeto secondo me come ragionamento sacrosanto perché lo condivido nella corsa a scudetto ci puoi ancora finire però siamo sicuri che poi questa Juventus mantenendo Massimiliano Allegri o anche cambiando perché io sono anche dell'idea che cambiando allenatore non è che arriva uno con la bacchetta magica che adesso tutte le partite le vinci non è vero però probabilmente una scossa un elettroshock a questa squadra è doveroso è necessario e anche un bagno di umiltà di Massimiliano Allegri che verrebbe esonerato una seconda volta perché perché non è stato in grado di staccarsi di ristaccarsi da una sua idea che in questo momento sta mettendo forse anche davanti al bene della Juventus perché anche qua è un vecchio video che ho fatto con Michael Righini l'anno scorso in cui vi dicevo la mia più grande paura è che a lei vi voglia dimostrare che si può vincere con la sua idea per poi dire ve l'avevo detto e io ve l'avevo detto intanto gli odolo a prescindere a priori quando la gente arriva e mi dice te l'avevo detto ti ho un biscottino ti ho un biscottino ti faccio un applaud ti faccio una carezza la coccola sotto il mento te l'avevo detto il fatto che la gente voglia avere ragione è una cosa terrificante te l'avevo detto te l'avevo detto è andato esattamente così coglioni te che ne pensavi un'altra cosa deficiente ma è ancora più grave se a farlo è la natura della Juventus e se per farlo è per raggiungere quell'obiettivo che in questo momento nemmeno si sta raggiungendo va a danneggiare la Juventus e chi mi tocca la Juventus a me non va bene chiudo con una considerazione perché questo discorso abbiamo snocciolato secondo me in più parti con due cose intanto la prima è che adesso io parto e ho un appuntamento vado dal tatuatore vado a farmi un tatuaggio a tema Juve in questo momento delicato che non ho nessun tatuaggio a tema Juve oggi è arrivato il momento di tatuarsi qualcosa a tema Juve è arrivato il momento per ricordarsi chi siamo sempre qualsiasi momento nel momento peggiore nel momento più buio vado a fare una cosa del genere e in seconda battuta voglio concludere dicendo che non mi è assolutamente piaciuto ma forse l'ho già detto forse no non mi ricordo lo dico un'ulteriore volta per dovere di cronaca non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento che hanno avuto alcuni giocatori di cui non voglio fare i nomi davvero non voglio fare i nomi fateli voi se è necessario io voglio che passi il messaggio più che puntare il dito sugli uomini ma non mi è piaciuto vedere dei giocatori che alla fine della partita si sono staccati dal gruppo squadra che era andata a prendersi giustamente giustamente i fischi sotto la curva della Juventus perché se io già pago e tanto per uno spettacolo raccapricciante a livello sportivo perché non siamo in grado di offrire uno spettacolo decente a chi va allo stadio e in seconda battuta nemmeno per i risultati perché si è arrivato a perdere la seconda partita di file in Champions e ragazzi in Champions non c'è margine possiamo starci qua a parlarne finché vogliamo ma in Champions non c'è margine d'errore se ne per due è giusto forse che tu vada a casa poi puoi ancora passare io lo ribadisco puoi ancora passare però ne hai perse due nelle prime due e ne rimangano quattro che sono comunque tutte complicate in questo momento perché è complicato il Monza non può non essere complicato il Maccabi Haifa se è complicato il Monza e se tu fai parte davvero di una squadra di un gruppo squadra non ti stacchi da chi va a prendersi fischi che se li sia meritati perché tanti giocatori in campo magari se li erano meritati o che non se li siano meritati perché se ci vanno gatti e rugani che hanno giocato zero minuti a prendersi fischi perché non ci vengono a te se ci va il portiere convocato perché Scesni è infortunato e quindi serve un terzo portiere ed è un ragazzino che con l'eventus non ha mai giocato e va sotto la curva e si becca dei fischi che lui non si merita che lui non si merita non puoi non puoi e qua mi girano i coglioni perché queste sono dimostrazioni che non si è squadra non puoi non andare a beccarti fischi anche a te e ci metto dentro anche l'allenatore che è vero che non è mai andato sotto la curva in generale nemmeno quando si vinceva però a me questa cosa dà anche un po' fastidio e lo dicevo anche nel video di Lello Lello ha pubblicato uno short a Parigi in cui arrivano i giocatori allenatori dopo l'uscita Allegri non saluta mai non saluta mai ha fatto un salutino così proprio tanto per ma non saluta mai io non riesco a capire questa cosa di essere così distaccato anche dalla tifoseria probabilmente è un suo modo di fare un suo modo di essere e non gli chiedo di andare a esultare alla Conte sotto la curva quando si vince però quando si perde e c'è delle grandi responsabilità un bel bagno di umiltà a tutti fa bene a tutti fa bene un bel bagno di umiltà perché secondo me in questo momento si è troppo abituati ad essere la Juventus la Juventus che vince cazzo vinciamo noi siamo bellissimi siamo fortissimi siamo ricchissimi siamo potentissimi siamo stupendi non si sta vincendo un cazzo non si sta vincendo un cazzo e per vincere bisogna tornare a essere umili e per essere umili bisogna scendere dal piedistallo e per scendere dal piedistallo bisogna avere il coraggio di mettere in discussione le proprie idee perché se no si parla di ossessione perché se Allegri continua ad andare avanti con questa sua idea invece che cambiarlo aggiornarsi in base alla squadra che ha alla situazione e al contesto calcistico è un'ossessione se Agnelli rimane nella sua idea perché no figa l'ho scelto io Allegri è una mia idea la figurati se la cambio è un'ossessione e allora bisogna avere la forza il coraggio di riconoscere di ascoltare il campo e sentire quello che ci dice di guardare e ascoltare il campo perché il campo parla sempre ed è l'unico che ha sempre il diritto il dovere di parole ed è l'unico che ha sempre ragione se poi vogliamo mettere in discussione la parola del campo allora è finito il calcio perché non stiamo più parlando di calcio stiamo parlando semplicemente di opinioni che vengono spacciate come dati di fatto e in questo momento il campo ci dice solo una cosa la Juventus è gravemente insufficiente Massimiliano Allegri delle grandi responsabilità siamo quasi fuori dalla Champions siamo in ritardo sulla tabella scudetto ma possiamo ancora riprenderci in tutti i campi a patto che si cambi registro con Massimiliano Allegri senza Massimiliano Allegri non lo so non mi interessa a me interessa vedere una Juventus che intanto ha voglia di stare insieme come gruppo e non che ha le difficoltà vai via perché oh figa io ho giocato bene se lo beccano i fischi se lo beccano poi quelli che hanno giocato male allora vuol dire che non sei squadra e in seconda battuta una Juventus che abbia voglia di dare riconoscenza a quei tifosi che investono tempo e denaro nella Juventus e andare a vedere la Juventus e poi mi devo sentire rire che non devo chischiare il pubblico pubblico fischi stiamo scherzando pubblico paga il biglietto pubblico paga il biglietto per una cosa per divertirsi allo stadio e vedere la squadra che vince cosa siamo in grado di fare noi in questo momento dato che Bellini perdenti perdenti vincenti vincenti Bellini Bellini brutti non sappiamo fare niente in questo momento non sappiamo fare niente beh ragazzi forza Juve arriveranno anche momenti migliori questo sicuramente non è uno di questi che si tratta di